Il numero delle persone che ogni giorno deve prendere il treno per andare al lavoro o a studiare a Milano è molto alto, tanto quanto quello dei problemi che affliggono la tratta Cremona-Milano, a cui si unisce anche Mantova, in cui la presenza di carrozze fredde, le porte mancanti, i finestrini rotti, fanno ormai parte del quotidiano. E senza tener conto dei ritardi ormai cronici e che hanno caratterizzato anche la giornata odierna. In pratica, ogni giorno ci sarebbe motivo per fare reclamo. E questa sarebbe una tratta non ottimale, secondo Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale. Come al solito ci troviamo nelle prese con ritardi, carrozze fredde e al primo d'imperia che c'è stata, 3 cm di neve, subito la stazione è bloccata per mezz'ora per problemi di scambio. Veramente mi sembra una cosa di tornare indietro 30 anni fa, come se in Siberia non andassero mai i treni durante l'inverno. Però in vista dell'Expo è stato istituito un treno domenicale che ha suscitato alcune perplessità. Come già l'avevamo visto in fase di presentazione, chiaramente questo non è un treno finalizzato in pendolari, perché fatto solo a domenica in orari, chiaramente il di fuori delle fasce normali non può servire. Può essere una conquista, ma veramente è un qualcosa di poco. Oltretutto fatto solo a domenica mi sembra un pochino, un contentino ecco. Ma il problema ferrovia a Cremona non finisce qui. Non verrà infatti costruita nessuna barriera nella zona della stazione per limitare rumori e odori derivanti da treni diesel che qui sostano e che hanno bisogno di essere mantenuti in funzione. Veramente non riusciamo a capire. Già in quest'estate quando abbiamo fatto un incontro in prefettura era stato detto che i quattro treni sarebbero poi spariti. Adesso con queste nuove costruzioni che ci sono a Brescia per l'alta velocità, tutti i treni vengono spostati a Cremona, nella riunione del 20 dicembre è stato denunciato questo e era stato detto che si sarebbe messo un tappo, chiamiamolo così, invece neanche quello. Mi piacerebbe sapere se le persone che hanno preso queste decisioni avessero questa situazione sotto a casa, cosa direbbero. Sicuramente le previsioni per il 2015 non saranno delle migliori. Noi speriamo che ci sia un miglioramento, ma non siamo fiduciosi. Il fatto di continuare a cambiare anche i dirigenti a livello sia di regione Lombardia che di Trenord è un continuo rimbalzarsi poi di responsabilità, di interlocutori e non riusciamo mai a parlare effettivamente con qualcuno. Speriamo che effettivamente questa nuova riunione del tavolo territoriale venga fatta a Cremona e si parli finalmente dei temi di Cremona e non come spesso accade che si arriva a Milano per parlare del Quadrante Sud e poi si parla della Comodo Modossola. Grazie a tutti.